Ciao, sono Fred De Palma e questa è la mia prima volta. In realtà io ho iniziato a fare le rime con gli amici in macchina sulla tecno, perché al tempo c'era proprio la tecnomania, no? E quindi io, quando ero in macchina con gli amici, mettevano solo questi pezzi in cassa dritta super tecnoni. E un giorno, scherzando così, ho detto, ci faccio due rime sopra, ho iniziato a fare tipo freestyle, tra virgolette. Allora, la prima rap battle è stata nel 2009 circa, ed è stata proprio la prima in generale, perché avevo iniziato a fare freestyle da circa un paio di mesi. E ho deciso di andare a fare il Tecniche Perfette, che era appunto il contest più ambito a livello nazionale. Sono andato senza conoscere nessuno, proprio da solo, e sono arrivato in finale, incredibilmente. Solo che in finale ho beccato questo MC del posto, che aveva una marea di supporter sotto al palco, e poi chiudeva tutte le rime parlando, sembrava tipo cabaret. E io mi innervosivo, perché dicevo, il tipo non sta chiudendo le rime come dovrebbero essere chiuse. Allora gli facevo delle punchline gigantesche, ma comunque ho perso, purtroppo. 13 anni, tra l'altro una cosa abbastanza simpatica, perché io praticamente andavo in terza media, e in classe avevo due ragazze che mi piacevano. Queste due ragazze erano amiche, e praticamente ci siamo trovati poi un giorno in casa tutti e tre, e lì è successa la mia prima volta. E poi ho continuato comunque, su quella strada. Secondo me è sempre intorno ai 13 anni, ho fatto tante cose a 13 anni. Sì, a 13 anni mi ricordo che avevamo svuotato il bar della nonna di un mio amico, e poi stavamo tutti e due male, e dicevamo i nostri genitori che ci avevano dato dei cannoli che non erano... che erano scaduti. Ah, maledetti! Ci hanno avvelenati, invece no, ci avevano bevuti il mondo. Mi vergogno, devo dirlo veramente? No, dai. È il primo, il primo due stelle sulla pancia. Allora, dovevo fare una data a Venezia, ed era un hotel con Guè. E praticamente Guè mi ha iniziato a far ascoltare J Balvin. Mi fa, sta roba qua è troppo figa, devi ascoltarla. E da lì mi sono iniziato proprio ad appassionare poi al genere, insomma, ho visto anche l'evoluzione che ho avuto a livello proprio stilistico, e mi sono appassionato. Però la prima volta l'ho ascoltata con Guè in hotel. È a 18 anni. E poi mai più.